E ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. In primo piano la politica lucana, la scelta del candidato di coalizione del centro-sinistra, Domenico Lacerenza, non placa le polemiche. Intanto si attendono le decisioni di Azione Italia Viva in attesa della visita in Basilicata della Premier. Lunedì 25 marzo la Premier Giorgia Meloni sarà a potenza per firmare il patto di coesione, un'occasione anche per rilanciare l'impegno elettorale del centro-destra in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata che si svolgeranno il 20 e il 21 aprile e che vedono Vito Bardi come candidato della coalizione. Intanto sembrava archiviata la questione del candidato del centro-sinistra con la scelta del direttore della struttura interaziendale complessa di oculistica dell'ospedale San Carlo di Potenza, Domenico Lacerenza. In realtà, subito dopo l'annuncio, sono state registrate molte perplessità, soprattutto negli ambienti vicini al Partito Democratico ed a Basilicata Casa Comune, che voleva il suo leader, Angelo Chiorazzo, come figura idonea per guidare la ricerca della riscossa sul centro-destra, costretto poi però a fare un passo di lato per il bene del campo largo. È proprio la ricerca di una sintesi che sta coinvolgendo Azione Italia Viva. Infatti, mentre i renziani sembrano sempre più convinti di convergere nell'area del centro-destra, anche se non c'è nessuna ufficialità, si attende domani e dopodomani la visita lucana di Calenda per capire la loro posizione. Da quanto affermato nell'immediatezza della conferma di lacerenza, sia dal segretario regionale di azione Donato Pessolano che dal consigliere Marcello Pitella, la loro mancata partecipazione nella scelta del candidato è stata motivo di una ferma presa di posizione a cui ha fatto eco anche lo stesso Calenda. Penso che da molto tempo è nato un tentativo da parte di Giuseppe Conte di comandare nel campo cosiddetto progressista. Mercoledì ne abbiamo avuto la conferma, ha detto in un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministro dello sviluppo economico dei governi Renzi prima e Gentiloni poi. Alla domanda appoggerete il candidato del centro-destra Vito Mbardi, Calenda risposto che verificheranno le cose più giuste da fare per azione. Intanto programmata un'altra riunione del PD locale per ascoltare i vari malumori emersi. E rimaniamo nel territorio lucano per la visita della delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura guidata dal vicepresidente Fabio Pinelli, prima al Palazzo di Giustizia di Potenza e poi a Matera. Continuano le visite istituzionali di una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura per confrontarsi con i giudici e capire le criticità e le esigenze che arrivano da chi quotidianamente gestisce la giustizia italiana. Dopo Calabria, Sicilia e Toscana è stata la volta della Basilicata. Prima tappa il Palazzo di Giustizia del capoluogo di Regione Lucano dove ad accogliere il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli ed i consiglieri Gero Antonio Chiarelli, Roberto Fontana e Fabio Antezza è stato il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza Armando D'Alterio. Le criticità che sono un po' tipiche degli uffici giudiziari del Paese che riguardano innanzitutto gli organici, il personale amministrativo e l'aspetto anche dell'informatizzazione degli uffici giudiziari. Sono criticità che noi conosciamo e che stiamo cercando di risolvere ovviamente per quel che può riguardare la competenza del Consiglio Superiore perché come sappiamo il reclutamento e il personale amministrativo sono in particolare competenze ministeriali. Un'attenzione particolare anche per la sorveglianza ai minorenni. Le sorveglianze ai minorenni sono uffici che il Consiglio Superiore tiene in particolare considerazione perché non vanno dotati di risorse perché non si deve mai dimenticare che i minorenni sono il futuro del nostro Paese e la sorveglianza è la fotografia del grado di civiltà della società nel senso di poter dare recupero sociale alle persone che hanno sbagliato e che stanno scontando una pena. Dopo il capoluogo di Regione Lucano la delegazione si è spostata nella città dei Sassi di cui Pinelli e membri dell'Organo di Autogoverno della Magistratura hanno incontrato Alessio Coccioli, neonominato procuratore generale del Tribunale di Matera. Ed è in corso la riunione del Consiglio regionale pugliese per discutere la proposta di legge relativa all'istituzione di una società tra acquedotto pugliese e comuni per permettere alla Regione l'assegnazione in house del servizio idrico pugliese il cui affidamento scadrà per legge il 31 dicembre del 2025. La legge il cui primo firmatario è il consigliere Fabiano Amati consentirebbe ai comuni di essere accanto ad ACUPI nella gestione del servizio qualora l'ente di gestione idrica optasse per l'affidamento in house e non una gara d'appalto aperta anche a privati. Dall'opposizione hanno chiesto un confronto preventivo con governo per evitare possibili conflitti di attribuzione del potere legislativo. E' inaugurato a Bari il comitato elettorale del candidato alle primarie del centro-sinistra Michele Laforgia. Non dobbiamo essere divisi. Non un vero e proprio appuntamento da campagna elettorale ma un momento per salutare la comunità appianando i toni e recuperando la vera dimensione della politica. Con questo intento il candidato alle primarie del centro-sinistra barese Michele Laforgia ha inaugurato un gremito comitato elettorale. Cessate il fuoco è il messaggio che campeggia a chiaro riferimento al conflitto in Medio Oriente e in Ucraina. Drammi che non sono lontani e sui quali ognuno di noi può intervenire come sottolineava il pensiero di Franco Cassano sociologo e politico barese, autore del pensiero meridiano. Il primo intervento è stato infatti di Francesca Borri giornalista collegata dalle zone di guerra. Noi dobbiamo sempre avere la dimensione reale delle cose a me dispiace che anche questa pre-campagna elettorale abbia assunto in qualche momento dei toni accesi forse troppo aspri forse non ben comprensibili all'esterno io penso che dobbiamo recuperare la dimensione delle cose le vere tragedie non sono qui le vere tragedie sono dove ci sono le guerre dove si muore sotto i bombardamenti dove ormai si combatte per fame Non siamo divisivi e non vogliamo rompere la coalizione sottolinea la forgia venendo alle questioni più strettamente elettorali non ho ancora incontrato le cese dice ancora il penalista barese quando lo incontrerò sarò conciliante senza arretrare sui contenuti Siccome ci è stato detto per tanto tempo che siamo divisivi che non vogliamo l'unità della sinistra che vogliamo rompere io ho fatto il gesto credo più unitario possibile ho detto alle persone che sostengono un altro candidato ai partiti che sostengono un altro candidato di stabilire le regole e l'ho detto perché io mi fido Questa mattina invece sulle pagine social di Vito Leccese è stato pubblicato il video in cui il candidato sindaco si racconta e spiega le ragioni del suo impegno nella campagna elettorale per la scelta del prossimo sindaco di Bari per domani prevista l'inaugurazione del comitato elettorale in via Argiro Il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio De Caro si è detto preoccupato per il decreto Calderoni sull'autonomia differenziata A margine del convegno le politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del mezzogiorno promosso a Napoli dalla CGL De Caro ha commentato Da sindaco del Sud sono contrario all'autonomia ma ero già contrario alla riforma del titolo V che è stato un errore che ha fatto la mia parte politica Se non avessimo fatto la riforma del titolo V nel 2001 non stavamo parlando di decreto Calderoni e di autonomia differenziata che già nelle parole autonomia e differenziata fa pensare a un paese spaccato a una sorta di gerarchizzazione territoriale dove il Sud sembra abbandonato al suo destino Invece anche noi sindaci abbiamo voluto reagire E andiamo a Foggia Non c'è un salto di qualità della mafia foggiana La squadra Stato ha reagito in modo positivo Lo ha detto il generale Luzzi comandante dei Carabinieri in visita a Foggia Ai cittadini chiediamo di continuare ad avere fiducia Mafia rinforzi il ruolo dei cittadini La squadra Stato rifiuti illeciti Il comandante generale dei Carabinieri Luzzi risponde alle domande dei giornalisti dopo la visita al comando provinciale di Foggia Lo Stato si è reso conto che a Foggia c'erano dei problemi da un punto di vista ovviamente della criminalità ha reagito, ha messo su in piedi delle strutture importanti la DIA, la nostra articolazione del ROS abbiamo potenziato le strutture investigative del comando provinciale e quindi la macchina dello Stato ovviamente a fianco della giustizia ha reagito in maniera positiva Attenzione ovviamente alle amministrazioni comunali che talvolta alcune, poche a dir il vero non si comportano come dovrebbero comportarsi in interesse dei cittadini e poi c'è il grande tema dei sequestri e delle confische di beni a mafiosi Rinforzeremo il personale ad hoc per casi specifici rimarca Luzzi e sul salto di qualità della mafia foggiana sottolinea Io non penso che ci sia un salto di qualità io penso esattamente il contrario è ovvero che lo Stato ha messo su in piedi un'ottima organizzazione investigativa e un'ottima organizzazione giudiziaria Più volte è stato lanciato l'appello ai cittadini collaborate, denunciate, devono ancora fare la loro parte? Ma i cittadini fanno sempre la loro parte non possiamo noi contestare i cittadini magari che possono avere paura di certe forme di criminalità Io quello che mi sento dire in questo momento è che il cittadino deve avere fiducia verso le istituzioni la fiducia è importante Secondo Luzzi la Capitanata non è la nuova terra dei fuochi Non mi sento di dire che è la terra dei rifiuti questi sono messaggi giornalistici per richiamare l'attenzione Chiaro che nel Foggiano come in altre realtà italiane ma anche al nord, badate bene ci sono delle aree che sono più compromesse da un punto di vista ambientale però anche qui abbiamo delle strutture importanti E a potenza manifestazione di CGL, associazioni e studenti davanti alla sede dell'assessorato alle infrastrutture della regione Basilicata per denunciare le difficoltà relative al trasporto pubblico locale Ascoltiamo Rischiamo di restare a piedi l'allarme che è stato lanciato dalla CGL di Basilicata e da diverse associazioni tra cui anche quella degli studenti che hanno manifestato a potenza davanti alla sede dell'assessorato alle infrastrutture La protesta prende le mosse da quello che i manifestanti hanno definito essere l'inadeguatezza della risposta del governo regionale alle esigenze degli utenti e dei lavoratori del settore dei trasporti situazione aggravata da una mancata concertazione che non ha consentito di individuare soluzioni condivise nella fase di negoziazione dei contratti di servizio con FAL e Trenitalia Ci sono gli attori del comparto cioè coloro i quali usano tutti i giorni i mezzi di trasporto studenti, lavoratori non siamo riusciti ad avere una vera interlocuzione su quelle che erano le richieste appunto di questo mondo che spesso è stato ignorato e spesso le decisioni sono state fatte diciamo d'imperio dall'assessore senza capire quelle che erano le varie esigenze Tra le maggiori criticità hanno denunciato le scarse condizioni e qualità dei mezzi di trasporto i tempi di percorrenza le connessioni del sistema e la programmazione dei relativi servizi che non tengono conto delle esigenze dell'utenza e dei territori Le criticità sono che il servizio su gomma, ferroviario insomma tutta la rete del trasporto pubblico regionale incide sul 50% degli studenti quindi è ovvio che i disservizi si manifestano su mancata possibilità di formazione anche di svago, di socializzazione Ignorare le richieste dei pendolari appare ingiustificato e credo rappresenti anche una mancanza di rispetto Questa è la replica dell'assessore Dina Sileo Ho dimostrato ampia disponibilità al confronto lì dove c'è disinformazione da parte dei cittadini su alcuni servizi sto dando tutti i chiarimenti utili per quanto riguarda i contratti di servizi i fondi FSC ovviamente i fondi PNNR sulla stazione centrale di potenza di cui ovviamente si chiede l'adeguamento e che partiranno a giugno ovviamente sono a disposizione per dare tutti i chiarimenti possibili e immaginabili perché ovviamente i cittadini devono essere informati Ed ora parliamo di Xilella la regione Puglia vara un nuovo piano di contenimento per garantire interventi rapidi In Puglia è stata aggiornata la zona di contenimento per contrastare la Xilella e sarà effettuata una ricerca mirata delle piante infette per garantire abbattimenti veloci nell'area che interessa i comuni di Monopoli Polignano Amare, Castellana Grotti Alberobello e parte di Putignano Si tratta della nuova definizione dell'area di contenimento prevista dall'osservatorio fitosanitario della regione Puglia che tiene conto dei risultati del monitoraggio attuato in queste aree del territorio pugliese sottoposte dal luglio 2022 a sorveglianza rafforzata Ridefiniamo l'area di contenimento prevista dal piano d'azione spiega l'assessore all'agricoltura della regione Puglia Donato Pentassuglia per consentire un'operazione chirurgica di eradicazione delle piante colpite dall'axillella fastidiosa che sia più efficace e veloce le misure di contenimento prevedono che venga battuto solo l'albero infetto e non le piante sane nel raggio di 50 metri dalla pianta infetta una scelta che intende tutelare il paesaggio della nostra regione aggiunge Pentassuglia senza dimenticare che tutti siamo chiamati ad una cura del territorio che passa dalle buone pratiche agronomiche e a Bari nella sala consigliare del Palazzo della Provincia il Forum Energia promosso dalle Cambiente Puglia sentiamo Sostenibilità ambientale e lo sviluppo di impianti per le rinnovabili al centro dell'incontro promosso dal Lega Ambiente Puglia Forum Energia l'obiettivo è centrare i target di sostenibilità fissati dall'Unione Europea e quelli per la regione Puglia di sviluppare un'economia green in grado di soddisfare il fabbisogno di un numero sempre maggiore di utenti l'Italia deve realizzare 80 gigawatt nuovi entro il 2030 circa un decimo di questa potenza nuova installata deve essere realizzata nelle principali regioni del sud Sardegna Sicilia e Puglia e ci sarà fare uno sforzo molto importante stiamo lavorando in questa direzione le aziende sono pronte i cittadini sono prontissimi ad accogliere il futuro le associazioni non soltanto le associazioni ambientaliste ma anche le associazioni che si occupano di lavoro e di sociale sanno bene che questa è una possibilità che noi non possiamo assolutamente perdere l'impegno della nostra azienda in particolare è di portare avanti due progetti dell'eolico offshore marino dell'eolico offshore galleggiante che stanno adesso nella fase autorizzativa stanno procedendo con la valutazione di impatto ambientale progetti avviati tre anni fa che portano tantissimi benefici c'è il territorio in termini occupazionali in termini di produzione di energia verde abbondante per le industrie e per la popolazione qual è l'impegno del vostro gruppo sul territorio? tentare di lasciare il maggior ritorno in termini di competenze fare in modo che questo bacino diventi il bacino appunto delle esperienze più interessanti dal punto di vista tecnologico economico e finanziario per quanto riguarda la pianificazione degli interventi l'obiettivo della regione Puglia è condividere la propria visione con il governo nazionale individuazione degli spazi marittimi e comunità energetiche sono già una prima risposta a una strategia di più ampia prospettiva la regione Puglia è stata tra le prime regioni d'Italia a dotarsi di una legge per le comunità energetiche per il reddito energetico abbiamo investito quindi provando ad orientare e così come stiamo accompagnando i sindaci nella redazione dei PAESC perché tutto questo è fondamentale cioè dobbiamo partire dai cittadini e dobbiamo arrivare ai cittadini riapre nella sede di via Montescaglioso dell'ASM lo sportello associazione Gianfranco Lupo si riapre lo sportello per le malattie rare era stato chiuso e non riaperto e ci siamo riattivati subito perché riteniamo comunque un punto importante non solo di informazione per la cittadinanza ma siccome le malattie rare hanno un processo interdisciplinare sarà sicuramente il luogo dove le associazioni i medici di medicina generale i pediatri di libera scelta potranno confrontarsi ma soprattutto quelle famiglie oppure quei pazienti che avranno la necessità di andare ad utilizzare i cosiddetti farmaci orfani saranno indirizzati per poter avere le cure giuste per queste malattie in realtà lo sportello è stato aperto a novembre del 2018 è stato egregiamente condotto dai nostri volontari voglio qui ricordare l'azione della dottoressa Valeria Cardinale dei due pediatri che si sono messi a disposizione come volontari dell'associazione il dottor Di Tocilla e la dottoressa Cristina Mengoboni ecco qui la grandezza di due persone che avevano capito l'importanza di questo sportello e svolgevano comunque la loro razione anche nella fase della pandemia più acuta noi dobbiamo ringraziare assolutamente il commissario per la riapertura dello sportello perché anche il covid non ci ha fermato comunque abbiamo lavorato telefonicamente per aiutare nei vari problemi le persone con malattie rare che sono poi dei cronici e che hanno bisogno di un supporto sempre per qualsiasi motivo perché ogni volta che c'è una diagnosi di malattie rare è un percorso nuovo per cui noi siamo sempre presenti e noi ringraziamo l'azienda sanitaria e l'associazione Gianfranco Lupo Ed ora andiamo a Foggia al via il conseguimento della certificazione delle competenze dell'infermiere di sala operatoria il corso curato dall'associazione infermieri di camera operatoria è ospitato nella sede dell'ordine delle professioni infermieristiche Presidente perché questi corsi questi seminari cosa fate oggi? Oggi stiamo facendo la seconda edizione della certificazione delle competenze dell'infermiere di camera operatoria è un passo molto importante perché come società scientifica siamo la prima società scientifica che riconosciamo le competenze degli infermieri che lavorano in camera operatoria e questo ha un duplice se non triplice obiettivo importantissimo uno che permette la crescita e la carriera dell'infermiere di camera operatoria la seconda è che anche le aziende sanitarie avendo infermieri certificati con le competenze anche a livello della gestione del rischio è diciamo concedetemelo è un vanto avete una serie di progetti e di programmi vero? Sì AICO dopo il congresso nazionale dell'anno scorso che abbiamo tenuto a Riccione è già al lavoro per l'organizzazione di eventi nazionali futuri stiamo facendo tanti eventi in giro per l'Italia eventi regionali eventi locali e stiamo già preparando il prossimo congresso nazionale che si terrà sempre a Riccione dal 3 al 5 aprile del 2025 poi ci sono tutti gli eventi regionali eventi che noi facciamo di formazione in tutte le regioni d'Italia Il ruolo degli infermieri di sala operatoria in ambito chirurgico è un ruolo a sé in fondo è un ambiente che o siamo o si odia molti professionisti grandi professionisti non sono capaci ad esempio di svolgere questa professione perché è un ambiente chiuso perché pensano che si comunica poco con il paziente e quindi a loro manca questo contatto mentre ce ne sono altri specialmente i giovani che sono attirati dalla tecnologia che è presente in sala operatoria e torna a Bari la carovana della prevenzione organizzata dalla Comen Italia screening gratuiti oggi a Catino al fianco delle donne al fianco della loro salute e torna a Bari la carovana della prevenzione organizzata dalla Comen Italia con due tappe che garantiranno screening gratuiti a tutte le donne della città prima tappa Bari nel quartiere Catino poi nelle prossime ore la carovana si sposterà a Carbonara noi siamo in piena attività in questo clima aspettando la race ovviamente perché la nostra race quest'anno è il 17, 18 e 19 maggio i nostri progetti sono sempre a sostegno delle donne in rosa e per promuovere la cultura della prevenzione ieri siamo stati a Tricase con un progetto dedicato alla scuola ai giovani che è inserito nel piano strategico regionale della Puglia siamo qui a Catino con questa carovana dedicata dalla Confindustria Giovani e anche domani ci sarà la stessa carovana a Carbonara grazie a unità mobili ad alta tecnologia la carovana percorre l'Italia offrendo gratuitamente alle donne numerose attività di promozione della salute femminile come la diagnosi dei tumori del seno e del collo dell'utero consulenze specialistiche di prevenzione secondaria di altre patologie femminili ancora laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell'attività fisica del benessere e della corretta alimentazione noi sabato scorso abbiamo tenuto già la prima riunione organizzativa la seconda sarà il 20 di aprile per organizzare la race for the cube del 2024 l'anno scorso abbiamo raggiunto 15.000 presenze e siamo grati a tutti coloro che ci accompagnano in questo percorso quest'anno speriamo di fare di più e al via la programmazione della MT Academy al fianco dei big player più importanti a livello globale Amazon Web Service dopo i distretti della Colombia Madrid e Valencia arriva nella casa delle tecnologie emergenti di Matera l'Academy di Amazon Web Services riconosciuto come uno dei big player più importanti a livello globale formerà oltre 120 giovani selezionati dalla Basilicata dall'Italia e dal mondo in qualità di esperti certificati in Cloud Architecting diverse le modalità di interazione con il territorio lucano oltre alle 200 ore di formazione in aula simulazioni laboratori su casi di studio seminari con esperti internazionali match con imprese locali e pubblica amministrazione è una certificazione riconosciuta sul mercato del lavoro presente tra le 10 certificazioni più utili nel mondo del mercato IT per aiutare i ragazzi non solo a posizionarsi ma anche poi a trasmettere conoscenza alle imprese locali e all'ecosistema locale a Matera le istituzioni hanno investito e stanno continuando a investire non solo nel talento ma anche in generale nel mondo IT basta vedere dove siamo oggi nella casa tecnologie emergenti faremo a brevissimo uscirà a metà aprile un bando internazionale metteremo a disposizione delle borse di studio cercheremo di spingere anche come regione a dargli delle opportunità lavorative in primis nelle nostre aziende locali che cercano queste figure professionali e poi la possibilità di un arricchimento e di potersi vendere questa formazione entrano dunque entrano dunque nel vivo le attività dell'MT Academy Smart progetto approvato e sostenuto dalla regione col supporto di sviluppo Basilicata quale soggetto attuatore per gli investimenti a valere sul fondo di sviluppo e coesione e il coinvolgimento diretto dei cluster lucani dell'innovazione e delle imprese culturali e creative avremo una serie di tante altre diciamo piccole imprese del territorio che insieme ad Amazon apriranno ufficialmente la via dei corsi di alta specializzazione sicuramente noi come regione continueremo a monitorare tutto il processo che da oggi si avvia ed è mia intenzione apporre ulteriori misure per poter facilitare chi sul territorio vuole rimanere e vuole fare autoimpresa i ragazzi saranno selezionati parteciperanno a questo importante percorso formativo che riguarda in questo momento l'architettura cloud di Amazon il nostro obiettivo è quello ovviamente di formarli e di farli rimanere qui e rimaniamo a Matera inaugurato negli spazi della Caritas Diocesana la tenda nel rione Cappuccini un murale serializzato da studenti e ragazzi che hanno vissuto storie difficili contrastare fenomeni di violenza e devianza che coinvolgono minori tra i 10 e i 17 anni segnalati all'autorità giudiziaria minorile coltivando la cultura dell'arte della street art in questo caso è l'obiettivo di Sounds Good tornare in onda il progetto realizzato nell'ambito delle bacheche culture tempo libero e cittadinanza attiva rispettivamente gestite dalla cooperativa Mecenatis Beniamino Contini e dalla Caritas Diocesana di Matera Ersina un'iniziativa selezionata da con i bambini sul fondo per il contrasto della povertà educativa minorile protagonisti i ragazzi del liceo artistico Carlo Levi di Matera insieme ad alcuni altri ragazzi che hanno avuto e vissuto storie difficili i quali hanno trasformato l'idea in una vera e propria opera d'arte il murale realizzato negli spazi della cooperativa La Tenda nella rione Cappuccini è stato anche candidato al contesto nazionale sul dono il senso di questa attività è quello di coniugare il tema della bellezza con il tema dell'educazione nel progetto sono accolti i ragazzi segnalati dall'USM il servizio sociale per i minorenni del tribunale quindi ragazzi che in un momento della loro vita hanno fatto un piccolo errore e però restituiscono alla comunità in termini di attività di impegno sociale e civile e quindi all'interno del progetto realizzare questa attività ha voluto dire questo coniugare il tema dell'educazione della rieducazione e il reinsedimento con il tema della bellezza all'inaugurazione Igor Scalisi Palminteri street artist palermitano che con la sua arte ha parlato a comunità e realtà difficili ma quanto può essere utile l'arte in questi casi? Può esserlo intanto per il processo che ha portato alla pittura di questo di questo murale che è un processo partecipativo che vede coinvolti diversi giovani provenienti da diverse realtà loro lo hanno pensato progettato e poi realizzato questo processo ha intanto un valore perché può diventare metafora di una comunità cioè una persona da sola forse non può dipingerlo tante persone insieme possono arrivare a un obiettivo comune questo è quello che è la visione della comunità contemporanea dove i processi devono essere assolutamente di natura partecipata bene questa era l'ultima notizia vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima edizione con l'informazione di TRM H24 H24